Benvenuti, un nuovo appuntamento con Music School. Oggi abbiamo Fiammetta Nena. Benvenuta Fiammetta. È una star ormai. Esagerata. È vincitrice del Music Ambassador, una delle eccellenze del nostro centro di musica. Siamo molto felici di averla qua perché in questo momento è a Londra. La prima domanda invece è rivolta al tuo inizio con la musica. Qual è stato proprio il tuo primo approccio con la musica? Allora, io credo che il mio primo approccio con la musica sia da quando ero piccola. Io l'ho realizzato con il tempo. Sembra strano a dirsi, però sono sempre stata in un ambiente abbastanza musicale perché in casa di mio nonno c'era sempre un disco jazz, sempre. Non mi ricordo un giorno che fossi da lui che non ci fosse musica jazz, insomma. Bellissimo. I dischi, sì. Mia mamma ha avuto esperienza per anni in un coro gospel e mio papà invece musica sette rock'n'roll. Rock'n'roll. Sì, sì. Quindi insomma un po' generi diversi. Quindi da piccolina tu eri già immersa in un mondo musicale. Esatto, esatto. C'è da dire anche questa cosa qua. Io ero, sono innamorata della musica però perché mi piaceva ballarla. E dopo invece con il tempo io ho cominciato invece a cantarla. E quindi... Ecco, i tuoi primi inizi, i tuoi inizi diciamo come cantante sono stati da autodidatta, giusto? Sì, esatto. E poi hai cominciato a prendere lezioni. Sì, quando ho capito che era insomma una cosa che volevo fare tutti i giorni e che volevo fare in modo più serio, mi sono iscritta a scuola musicale e diciamo che l'Unisono è stata la prima scuola musicale a cui mi sono iscritta. Sono venuta qui, ho trovato un maestro magnifico, David Benini, che lo dico sempre, oltre a diciamo la voce, il canto, quello che ho imparato tantissimo da lui è come stare anche sul palco. Quindi anche guardare ad altri artisti e vedere un po', studiarli, capire come... Perché è una componente importante di un cantante. È una componente importante perché... Non c'è solo il fatto tecnico dell'esecuzione, eccetera, ma anche... No, anche perché alla fine è quello che dai, no? Quindi è quello che sei, quello che le persone vedono, che va al di là di che tipo di voce hai, il timbro, che genere fai, no? Certo. È proprio anche un po' l'esperienza che condividi con le persone che ti stanno ascoltando. Certo. E i tuoi gusti musicali, il tuo background viene un po' dal soul, no? Molto dal soul, dalla musica black. Dici un po' di questa tua passione. Ma allora, io credo di averlo scoperto subito. Cioè, ho sempre avuto la passione per, sì, la black music. Un fatto istintivo, quindi non... Sì, abbastanza, sì. Non credo neanche di aver avuto, come posso dire... Non credo neanche di averlo scelto. È successo. Pazzesco. E basta, no? Mi è sempre subito piaciuto il sound, forse non lo so. Sì, sì. Anche perché poi, soprattutto, musica non italiana, no? Quindi, Ertha Franklin, Eta James, sono questi i tuoi riferimenti. Non capivo niente dei testi, quindi non è che ci fosse, dici, sì, il tema... Che invece il testo per un cantante è importante. Che invece è importante, quello anche quello è una cosa che ho scoperto poi dopo. Che è importante tradurre i testi. Esatto. Sì, sono cose che si imparano. Vabbè, adesso vivendo a Londra è normale, però in una crescita ho dovuto anche imparare a fare questo, insomma. E, diciamo, tu ti sei cimentata anche con i talent, hai fatto un po' di... Sì, ho fatto qualche cosa. All'inizio della tua carriera. Sì, sì. E ti sei buttata un pochino, con ottimi risultati, fra l'altro. Sì, sì, devo dire che sono stata contenta per un periodo, per qualche anno, ho fatto un po' di talent, livello regionale, insomma. Sono andati bene. Mi è anche piaciuta molto come esperienza. Poi ho pensato che quel periodo fosse finito, per me, dal punto di vista proprio personale anche, cioè... Questo è un ciclo, diciamo, che si doveva chiudere, in certo senso. Sì, esatto. Sì, è comunque una competizione, no? Certo. Sì, quel ciclo lì, esatto. Però si impara molto, diciamo. Sì, sì, assolutamente, anche perché ascolti un po' che cosa c'è in me. Tra l'altro ricordo una tua diretta su La Rai. Oh, Madonna, sì. Sei stata bravissima, cantando... Che brano cantavi quella volta? Un brano italiano. Un brano di Annalisa. Di Annalisa. Non vorrei sbagliare il titolo adesso. Un C... Una finestra tra le stelle. Ok, comunque... Lì è stato... Eh, lì era un quarto anno fa. Difficile cantare in diretta... Mamma mia, sì. ...sulla rete nazionale, insomma. Sì, sì, sì. Sì, sì, anche perché... Cercano di rassicurarti dicendoci, sì, ma c'è il Gobbo. No, ci sarà anche il Gobbo, ma... Ma tu non ne vedi. No, no, è stato molto bello, sì, è una bella esperienza anche quella. Ok, invece parliamo di questo tuo salto. Tra virgolette, l'esperienza di Londra che è tuttora in corso, che è stata complicata, soprattutto all'inizio molto, molto complicata, invece adesso sta dando dei risultati. Beh, adesso sono... Sì, adesso sono felice, sono in Accademia, questo è il mio secondo anno per... E infatti hai passato brillantemente la selezione... Sì, 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 c'è stata, esatto, c'è stata una selezione, esatto, ancora, cos'è, sì, un anno e mezzo fa, insomma. L'anno scorso era il primo anno di Accademia, adesso me ne mancano altri due per il... per la laurea. Per la laurea. Beh, adesso tutto bene, sono contenta, mi piace Londra, mi piace, adesso quando mi chiedono ti piace, sì, mi piace, ma per appunto un po' così persone che ho conosciuto, le esperienze che sto avendo, quindi anche musicali, soprattutto musicali. Beh, l'inizio è stato turbolento, immagino che sia così ogni volta... Anche quell'adattamento alla metropoli, insomma, che non è semplice. Sì, sì, insomma, poi non conoscevo nessuno, sono andata lì per la musica, ma ti servono soldi, quindi ok, devi lavorare, cosa poi... Sì, è tutto molto complicato. Sì, sì. E dal punto di vista didattico, spiegaci un pochino com'è l'approccio, com'è il metodo che viene seguito, che si segue in questa Accademia, insomma, un po' le differenze rispetto a quello che hai visto, perché tu hai fatto anche il conservatorio in Italia, hai avuto un'esperienza comunque didattica, diciamo, istituzionale, tradizionale, no? Diciamo, se mettiamo un po' a confronto i due sistemi, cosa ci potresti raccontare? Beh, allora direi che... Direi che a Londra, per la mia esperienza, quello che succede è ti fanno fare cose, Cioè, ti insegnano sicuramente, ma dicono, ok, mettimela in pratica, cioè, voglio che ti butti, non voglio che prima impari bene come si fa una cosa, e dopo una volta che l'hai imparata bene... Cioè, si parte dall'esperienza concreta. Si parte dall'esperienza, quindi c'è, sembra un po' strano dirlo, ma non è che c'è meno studio, c'è lo stesso studio, credo... Con un approccio diverso. Però in campo, no? Con un approccio sì, un po' più... Forse è migliore. Ma per quello che io mi sono così un po' stufata, avevo cominciato, come dicevi tu, Rovigo, Milano, io mi ero stufata perché non riuscivo a trovare un posto che mi desse quello che stavo cercando, che mi stimolasse adeguatamente, secondo quello che volevo io. E io qui adesso... L'hai trovato. L'ho trovato. Sì, sì, sì. Poi fratto, dicevi che c'è un corpo docente veramente di primo ordine, musicisti, insegnanti incredibili, insomma, no? Perché sono appunto... Sono molto inseriti anche nell'ambiente, oltretutto. Sono musicisti lavoratori che... Io per esempio adesso ti porto un esempio attuale, c'è una mia insegnante che non c'è per un mese, abbiamo una sostituta, ma perché sta facendo un tour in Germania. Quindi, cioè, sono persone che lavorano... Sono attive. Esatto, questo dell'insegnamento è un ulteriore lavoro che lo fanno, credo così, per arrotondare, non lo so, però perché sono veramente molto impegnati, come uno in un, per esempio, uno in uno studio discografico, questa insegnante è una cantante a tutti gli effetti, musicista, quindi con la sua propria band, cioè hanno concerti... A proposito di studio discografico, la tua esperienza negli Abbey Road Studio, che è stata una cosa pazzesca, risale l'anno scorso? È stato l'anno scorso, esatto. E ci sono due pillole? Ma siamo andati, appunto, tramite questo insegnante qui, abbiamo, l'avevo conosciuta da, perché abbiamo, l'avevo cambiata, no, era nuova per me, insomma, mi aveva sentito cantare una volta durante lezioni, mi ha detto, ah, si è a metà, insomma, era rimasta soddisfatta, allora io mi sono sentita un po' così... Un po' gasata. Un po' gasata, no, e l'ho sentita parlare di Abbey Road Studios, che doveva andare lì per un cantante, adesso mi sembra canadese, lei era la produttrice, no, per, non per tutto l'album, ma per alcuni brani, e le servivano dei coristi. Io subito ho detto, Lisa, si chiama Lisa, ho detto, Lisa, posso venire? Ma è quello che bisogna fare? Anche solo per ascoltare, perché mi fa, sì, sì, certo, ma guarda, se c'è spazio ti faccio anche cantare nel coro, insomma. Nel coro? E alla fine... E quindi, il giorno dopo... Un'emozione, credo, entrare là dentro è pazzesco. Un pezzo di storia della musica mondiale. Anche perché poi se tu lo vedi da fuori sembra piccolino, poi entri... Dentro è enorme. Dove sono? Sì, sì, bellissimo. Ottimo. Senti, l'ultima domanda, Fiammetta, i tuoi progetti futuri, quelli sui quali stai lavorando? Siamo curiosi di sapere. Sono curiosa anch'io perché non vedo l'ora che esca. Nel 2023, non so ancora quando di preciso, uscirà il mio primo EP. Ed è un EP, sarà per me molto importante, intanto perché è il primo, sono i primi brani, diciamo. Sì, tra due composizioni? Sì, esatto. Ah, fantastico. Tutte due composizioni. In inglese o in italiano? In inglese. Ah, ok. Sì, 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 ho pensato, ho pensato di fare qualcosa in italiano, però ho detto no, no. Siamo un po' più internazionali, almeno per l'inizio. Dopo magari... Farei anche italiano, perché tu apprezzi anche molto, no? Sì, sì, sì. Sono, ecco, è un progetto questo, sto già pensando al secondo EP, pensa te, quindi... Beh, è così che deve essere, la tua età deve essere così. Sì, 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 no, è molto molto bello, sono contenta, ci stiamo lavorando. Pensi di realizzarlo lì, di produrlo lì? Sì. Ah, fantastico, quindi con musicisti... Con musicisti lì, infatti adesso sto proprio organizzando calendari, cose, insomma... Siamo curiosi, speriamo di poterlo sentire qui in Italia, a un'isola in particolare. Esatto, un lancio. Un lancio incredibile. Sì, sì. Bene, bene, grazie mille Fiammetta, alla prossima con Music School. Grazie.